Ciao a tutti, sono Greta Pignata e sono qui con Gabriele Panizza per parlare del nostro nuovo insetticida biologico Flipper. Gabriele, qual è l'origine di Flipper? L'origine è proprio la natura, l'olio d'oliva di alta qualità. È stata la società Alfa Biocontrol che ha scoperto la componente attiva, l'ha portata nel prodotto Flipper attraverso un processo di estrazione e formulazione completamente naturale. Gabriele, qual è la componente attiva di Flipper? La componente attiva sono gli acidi carbossilici insaturi di una specifica lunghezza che penetrano all'interno del corpo dell'insetto e ne bloccano il metabolismo. Spiegami meglio questo aspetto. Le piante in natura producono delle tossine vegetali per difendersi dall'attacco degli insetti. Insetti però nel tempo hanno maturato la capacità di detossificare queste sostanze e quindi colpire la pianta. Flipper quando arriva a contatto con l'insetto interrompe immediatamente questa capacità di detossificazione. A questo punto l'insetto non è più capace né di nutrirsi né di arrecare danno a vegetazione e frutti né di trasmettere virosi. Quali insetti controlla Flipper? Flipper ha un ampio spettro d'azione. Controlla tutti quegli insetti che hanno totalmente o parzialmente il corpo molle e quindi penetrabile dagli acidi carbossilici. In particolare controlla afidi, cicaline, psille, tripidi, aleurodidi, alcune cocciniglie e gli acari. Su quali stadi di sviluppo agisce Flipper? Flipper è un prodotto molto completo e agisce su tutti gli stadi di sviluppo di crescita dall'insetto quindi sulle uova, sulle forme giovanili e sugli adulti. Flipper su quali colture è registrato? Flipper è registrato su più di 50 colture. Numerose colture articole, sia in pieno campo che in serra, la vite, le principali colture frutticole, sono inoltre in corso dei progetti di estensione su altre coltivazioni. Gabriele, a chi consiglieresti Flipper? Flipper ha delle caratteristiche distintive e uniche che risponde alle esigenze di tutti gli agricoltori, quindi è per tutti. Prendiamo delle colture di pregio tipiche del Made in Italy, dove sappiamo che la qualità e la freschezza giocano un ruolo molto molto importante. Facciamo un esempio, il pomodoro. Perché un orticoltore dovrebbe scegliere Flipper? Sono un produttore di pomodoro, di pomodoro per consumo fresco coltivato in serra. Sono in fase di maturazione e procedo alla raccolta giorno dopo giorno. Mi arriva un attacco di mosca bianca, applico Flipper e risolvo tempestivamente la problematica, con un grandissimo vantaggio che essendo Flipper di origine naturale, esente da residui e non avendo tempo di carenza, posso continuare il giorno dopo tranquillamente a raccogliere il mio pomodoro nelle condizioni di massima freschezza e di migliore sapore. Parliamo della vite. Flipper è una valida soluzione per il viticoltore? Anche per i viticoltori Flipper è una validissima soluzione. Ti riporto l'esempio di un viticoltore biologico. Uno degli insetti più dannosi è lo scafoideo che trasmette una malattia alla flaviscenza dorata che può determinare la completa distruzione del vigneto. Sono pochi oggi i prodotti autorizzati per il controllo di questa avversità. Flipper è una soluzione innovativa, capace di controllare sia le forme giovanile che gli adulti, dando un valido aiuto al viticoltore. Inoltre abbiamo un grossissimo vantaggio che Flipper è selettivo sulle api e sugli insetti utili e quindi mantiene inalterato l'equilibrio naturale del vigneto. Gabriele, descrivimi Flipper con un aggettivo. Un aggettivo non basta per Flipper. Io ti dico naturale perché deriva dall'olio d'oliva ed è anche autorizzato in agricoltura biologica. Completo perché è registrato su tante culture e avversità. Essenziale perché è una soluzione unica e indispensabile in determinate fasi del ciclo culturale. E selettivo perché rispetta api, bombi ed insetti utili. E io direi anche affidabile. Giusto, perché è di baia.